Credo che non ci sia modo migliore per iniziare il sabato mattina rispondendo a questa domanda Oggi non voglio rispondere semplicemente alla domanda se creerò mai videogiochi 3D Ma voglio un po' rendervi partecipi di quello che è il mio percorso E perché forse farò giochi 3D o non li farò Voglio un attimo farvi capire tutto quello che faccio e quindi anche voi capirete Perché sto prendendo una scelta rispetto un'altra Innanzitutto partiamo dal mio percorso Per chi non lo sa io sviluppo videogiochi web in particolare Perché sviluppo videogiochi per le aziende In particolare i videogiochi che creo sono advert games Quindi videogiochi pubblicitari possiamo chiamarli così Ci farò diversi video nelle prossime settimane dove vi spiego nel dettaglio Perché un'azienda potrebbe utilizzare un advert game per promuovere il proprio brand O un prodotto o dei servizi Bene parlerò sicuramente più avanti Partiamo dal presupposto quindi che se io vado a utilizzare i videogiochi web Devo conoscere attentamente il mercato Sia le aziende quello che vogliono attualmente I budget che investono per la creazione di un videogioco E soprattutto anche quali sono i dispositivi degli utenti Che vanno a giocare questi videogiochi web In questi due anni ho avuto una crescita gigantesca Farò un video nelle prossime settimane dove vi racconto anche tutto il 2020 Come è stato per me Per parlarvi della maggior parte dei progetti importanti che ho creato Perché voi non lo sapete ma escono tanti altri videogiochi che voi non vedete Per diversi motivi Alcuni per NDA Alcuni perché non voglio semplicemente mostrarveli Cerco sempre di fare una scrematura dei videogiochi che vado a pubblicare Però magari in questi video posso anche parlarvi di questi videogiochi che spesso non porto Partiamo da una cosa importantissima Che si collega ovviamente alla domanda Se creerò mai dei videogiochi 3D Innanzitutto i dispositivi di oggi La maggior parte dei dispositivi moderni Possono far girare i videogiochi web 3D Utilizzando la tecnologia WebGL Questa tecnologia purtroppo non ce l'hanno tutti i dispositivi O comunque bisogna tenere in considerazione Che se un'azienda decide di pubblicare un videogioco Quindi promuovere il proprio brand e così via Si vuole assicurare che la maggior parte delle persone Possono giocare al proprio videogioco pubblicato Bene, quindi bisogna molte volte scegliere una soluzione Che si adatta per la maggior parte dei dispositivi Per la maggior parte degli utenti Oggi creare un videogioco 3D potremmo essere il periodo giusto Però ancora non è una soluzione che voglio adottare Sicuramente in questo 2021 voglio investire Per lo sviluppo di videogiochi 3D Da poter offrire ai miei clienti Perché dal mio punto di vista si possono realizzare dei prodotti Che ad esempio il 2D non permette di fare Se un'azienda mi chiede ad esempio di promuovere un loro prodotto E quindi l'utente può andare a vedere a 360 gradi il prodotto E così via Perché appunto l'azienda in particolare Vuole creare questo videogioco per i propri clienti Quindi vogliono acquistare il suo prodotto Quindi per un target in particolare La soluzione 3D come la soluzione realtà virtuale aumentata Potrebbe essere migliore rispetto a quella del 2D Bisogna capire tante cose ovviamente Noi siamo molto convinti che la soluzione 2D È quella che si adatta nella maggior parte dei casi Perché vi ricordo che comunque realizzando videogiochi 2D Si possono fare veramente tantissime cose E ottenere tantissimi risultati Tutto dipende ovviamente quali sono gli obiettivi Quindi già possiamo andare a rispondere a questa domanda Che forse sì In futuro sicuramente svilupperò videogiochi 3D Se per giochi 3D invece state intendendo videogiochi 3D Da pubblicare su Steam o sul Play Store o sull'App Store Sempre meno Perché voi dovete capire che Somoli Shaka come sviluppatore Come persona che ha una partita IVA E che quindi lavora nel mondo dello sviluppo di videogiochi Si sta concentrando molto a far crescere sempre di più Quello che è il suo business Ovvero creare videogiochi per le aziende E quindi iniziare a offrire una serie di servizi Vedremo nelle prossime settimane Anzi da gennaio Anche quello che sto iniziando a offrire Collegato al videogioco Non vi spoilerò niente ovviamente Quindi la risposta potrebbe essere assolutamente sì Sicuramente pubblicherò domani o inizierò a fare videogiochi 3D Forse non con questo engine Quindi Construct 3 Ma forse anche con altri engine E forse utilizzerò questi engine con altre persone Perché il mio obiettivo ovviamente è quello di espandermi E quindi avere presto una mia attività imprenditoriale In particolare un'azienda Nel mondo dello sviluppo di videogiochi Bisogna anche molto considerare che Il mercato in Italia per quanto riguarda gli hardware game È un mercato che lo stiamo vedendo crescere Forse anche per me Come anche per altre piccole realtà Come anche per Gamindo E così via Quello che stiamo facendo in Italia È proprio istruire O comunque far capire alle aziende Il potenziale di utilizzare un videogioco Per una campagna di marketing Per qualsiasi cosa Ovviamente poi non sempre il videogioco si adatta ad ogni soluzione In alcuni casi invece Il videogioco potrebbe essere la soluzione migliore Quello che succede quindi È che le aziende Ancora in una prima fase iniziale Non vogliono investire un budget di 20.000 30.000 euro per creare un gioco Perché vogliono iniziare a testare Vogliono iniziare a vedere come reagisce il proprio pubblico Quindi in questo caso Quello che si sceglie ovviamente anche per motivo di budget È un videogioco 2D Rispetto al videogioco 3D Che come sappiamo Ha un costo È un tempo di sviluppo Completamente diverso Quando facciamo un videogioco 3D Bisogna pensare alle animazioni Al modello Alla texture Al programmare il videogioco È una cosa completamente diversa Importante però è da dire Che il 3D non è migliore del 2D Come il 2D non è migliore del 3D Tutto dipende Quello che si vuole fare È importante Da questo punto di vista Capire la distinzione Dei due prodotti In queste ultime settimane Sto prendendo delle serie decisioni Su quello che sarà Il mio percorso del 2021 E questo sta ovviamente Influenzando anche quello che sarà YouTube E tutto quello che porterò online Non vi preoccupate Mega spoiler Continuerò a fare video Ma sicuramente Cambieranno anche un minimo Forse i contenuti Parlerò sempre di videogiochi Ma ci saranno Meno contenuti particolari Ve ne parlerò sicuramente In un prossimo video Questo perché nel 2020 Quello che sto scoprendo È che sempre più aziende Vogliono videogiochi Il mio business In questo caso Quello che sto facendo La mia attività Sta crescendo sempre di più E quindi voglio focalizzarmi In primis su quello Ovvero sul creare videogiochi La mia passione È per fortuna anche Il mio lavoro Rispondendo quindi alla domanda Sicuramente farò videogiochi 3D Non potevo rispondere No a questa domanda Perché la domanda stessa Dice Farò mai Sicuramente sì Proverò a fare Anzi farò proprio dei test Deciderò anche di investire Un budget mio Per vedere anche come I miei clienti E i miei futuri clienti Potranno reagire Alla richiesta di Realizzare un prodotto Di questo genere Perché ovviamente Vanno validati C'è anche molto da dire Che attualmente La tecnologia Non permette Una fruizione Di un gioco 3D Da parte di tutti Bisogna tenere in considerazione Che non tutti Hanno in questo caso Un S9 Un S10 Un S20 O un iPhone 8 9 10 e così via Quindi bisogna anche Tenere in considerazione Queste cose Siamo però nel periodo giusto Se avessimo fatto Videogiochi 3 anni fa 4 anni fa Non è la stessa cosa Del farli adesso Sia per la velocità Della connessione internet Sia per i dispositivi E così via Quindi bisogna anche dire Che più avanti Sicuramente vedremo L'evolversi della tecnologia L'evolversi dei dispositivi E questo permette A noi In questo caso Sviluppatori Di fare più cose E le aziende Anche di richiedere Dei prodotti Una cosa che ad esempio Stiamo iniziando a vedere È già la realtà aumentata Però collegata All'web Che attualmente Siamo ancora all'inizio Speriamo I dispositivi Permettano sempre di più Di poter fare questa cosa Il fatto che i dispositivi Migliorino sempre di più Anno dopo anno Questo sicuramente Un domani Potremo vedere Che non bisogna più Scaricare un'applicazione In particolare Per la realtà aumentata Ma tutto direttamente Da un sito internet Quindi dal sito del cliente Di un brand Di un marchio E così via Come svilupperò Questi videogiochi 3D Molti sicuramente Stanno pensando Di utilizzare Classici strumenti Come Unity E così via Ma attualmente Unity Non è perfetto Per realizzare Videogiochi web Né per il 2D E quindi ovviamente Né per il 3D Quando bisogna realizzare Adver game In questo caso Giochi che possono diventare virali E così via Come Albano vs Dinos Bisogna realizzare Dei prodotti leggeri Che funzionano benissimo Per tutti E ad esempio Videogiochi fatti con Construct Sono stati fantastici Fino ad ora Con Albano vs Dinos Abbiamo fatto 600.000 persone In soltanto Una settimana Quindi questo Grazie anche al fatto Che il videogioco Si adattava perfettamente A quelli che erano Tutti i dispositivi Degli utenti Iphone Android Microsoft Qualsiasi dispositivo Come li svilupperò Non lo so Ad oggi Uno dei programmi Secondo me migliori Per creare Videogiochi web 3D E Play Canvas Non so se lo conoscete Attualmente Sta crescendo Sempre di più E sarebbe interessante Secondo me Iniziare a trovare Uno sviluppatore Con cui poter Iniziare a collaborare Proprio Nello sviluppo Di videogiochi 3D web Mai dire mai Ovviamente Quindi ovviamente Se c'è qualcuno Che sta prendendo Questo video Vuole imparare A fare videogiochi Insieme E quindi iniziare A offrire A quelle che sono Potenziati clienti Un prodotto di questo genere Contattatemi Nella mia mail Info Voglio sicuramente Focalizzarmi Nel migliorare Tutti i servizi Che offro Per i miei clienti Quindi lo sviluppo Di videogiochi E tante altre cose Che vedrete Nelle prossime settimane Voglio fare sul serio Come ho fatto sempre sul serio Fino a questi due anni Vedrete sicuramente Un'evoluzione Anche dei prodotti Che realizzo Sto realizzando Di prodotti incredibili Che non vedo l'ora Di farvi vedere Prodotti bellissimi Dal mio punto di vista E non perché sono miei Ma cerco di dare Ovviamente un parere Oggettivo E sarete voi Sicuramente anche A giudicare tutto questo Ragazzi io spero Che questo video Vi abbia dato una risposta Anche a voi Per farvi capire Che molte volte La scelta di una persona Non dipende Solo da se stesso Ma dipende Da tanti fattori Da quello che vuole fare Se io in questo caso Avessi voluto Semplicemente realizzare Videogiochi 3D Solo per scopo mio Ovviamente Lo avrei già fatto Magari con Unity Con Unreal Engine O con un altro engine Che vi permette Di creare Videogiochi 3D Quando invece Si lavora in questo campo Si prendono delle decisioni Anche sulla base Del proprio lavoro Questo è super importante Viceversa Per uno che fa Soltanto realtà aumentata Ad esempio E offre ai propri clienti Quel prodotto Specializzarsi Sul creare Videogiochi 2D Potrebbe essere Una soluzione Per offrire Un prodotto aggiuntivo Come magari Non avrebbe Assolutamente senso O magari ha senso Trovarsi una persona Con cui fare questi prodotti Bisogna anche iniziare A pensare così Bisogna anche cercare di capire Che ovviamente Le mie giornate Sono come le vostre Quindi ho soltanto Disposizione 24 ore E quindi non è che Si può fare tutto Bisogna cercarsi Di focalizzarsi In questo caso Io che sto facendo Impresa In quello che Le aziende chiedono In quello che sarà Il futuro Nel mondo Videogiochi 3D Siete d'accordo Con quello che farò Fatemelo sapere Ci vediamo come Ogni giorno Con un nuovo video E allora ci vediamo Domani Ciao 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 Grazie a tutti.